Musica Sono molto felice di tornare al Regio, sentivo l'esigenza di ritornare a teatro, potersi di nuovo emozionare a teatro, poter ascoltare musica di qualità in questo tempio della musica che ci offre sempre tantissime emozioni. Certe volte non ci rendiamo conto di tutto quello che abbiamo se non ci viene tolto. E' stato bellissimo vedere che si poteva ancora venire l'estate. Questo penso che sia anche un bel segnale di riapertura in attesa della prossima stagione. Sicuramente è una grande emozione, la musica dal vivo, l'arte, quello che ci è mancato di più in questo periodo di confinamento, trovarci davanti a questi grandi artisti è quello che più ci è mancato e adesso siamo molto contenti e molto orgogliosi di poter riappropriarci del nostro teatro e del teatro Regio. Finalmente è un'emozione unica, è sempre un'emozione venire a sentire musica dal vivo, prendere altavella come il teatro Regio di Torino e soprattutto in tempi come questi difficili abbracciare in senso metaforico praticamente i musicisti e tutto il comparto tecnico del teatro Regio di Torino e non solo gli artisti in generale. La rinascita del programma del Regio rappresenta il risveglio dell'anima musicale di innanzitutto questo teatro e poi di questa città. Sono molto molto felice di poter risiedermi nelle poltrone del teatro e di ascoltare l'ottimo suono che mi approviene. Dopo tutto questo tempo veramente non vedevo l'ora, sono qua e sono molto felice di essere tra i primi, magnifico, grazie mille.